Oggi è in atto una crisi climatica e sociale. Come Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che solo attraverso la conversione ecologica dei modelli produttivi e sociali si può uscire da questa crisi e creare lavoro stabile di roturo. Vogliamo ridare ossigeno alle nostre città attraverso la mobilità sostenibile ed elettrica e il trasporto gratuito under 30. Vogliamo contrastare il caro bollette attraverso il tetto al prezzo del gas e il congelamento degli oneri di sistema sulle bollette. Vogliamo ridare futuro ai nostri giovani attraverso l'accesso al lavoro e alla casa.